Sì, è venuto a provarci, è venuto a vedere l'allenamento, abbiamo pranzato insieme, è una persona veramente speciale e ci ha detto di dire e ci ha fatto già capire come treme tanto anche l'infanzia femminile, ha tanta voglia di fare, lo sta facendo con la maschile e lo farà anche con la femminile, quindi veramente dovrebbe essere l'inizio di un inizio di veramente grande. Quanto è importante giocare in questo squadra, una forza quantità con l'estelanza in un certo gioco? Beh, sarà assolutamente una partita molto difficile perché sono una squadra estremamente forte, però sarà anche una partita bella, quindi veramente siamo contentissime di farla e non vediamo l'ora, lo stiamo preparando bene, quindi sicuramente un inizio, beh, tosto, però siamo contenti a farla, è meraviglioso.